Ancora un'aggressione al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, dove un ospite alla struttura, un cittadino del Gambia di 34 anni, ha aggredito un italiano addetto alla mensa del centro che è stato colpito alla testa con una bottiglia in vetro. Lo straniero è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile dei carabinieri di Foggia con le accuse di minacce e lesioni aggravate. L'aggressione è venuta ieri pomeriggio proprio all'interno della sala Menza, dove la vittima stava preparando il locale per allestire la distribuzione dei pasti. Da indiscrezioni pare che lo straniero si lamentasse per la qualità del cibo distribuito agli ospiti. Dopo aver colpito l'italiano, il 34enne è fuggito. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno salvato lo straniero da un tentativo di linciaggio di numerosi suoi connazionali. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso all'ospedale Tattarella di Cerignola, dove è stata giudicata guaribile in 25 giorni. Ci aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della Regione Puglia della protezione civile, ma ancora non arrivano. Allo Stato non sappiamo nulla, né in maniera formale che in maniera informale. Pensiamo che un coinvolgimento del territorio debba essere prioritario, quantomeno per ragioni di opportunità. Così l'assessore alla sicurezza, mobilità e protezione civile del Comune di Foggia, Claudio Amorese, a 100 giorni dalla conferenza stampa in cui il Presidente Emiliano ha delineato la strategia per favolare il Gino Lisa, interviene sulla nuova allocazione della sede della protezione civile presso l'aeroporto. Dopo lo stop dell'Unione Europea, che è escluso Foggia dalle aree remote, decisioni a cui si è giunti in seguito all'interrogazione dell'europarlamentare gentile, la Giunta regionale ha intrapreso una nuova strada, tentando di far diventare lo scalo, servizio di interesse economico generale, destinando il Gino Lisa a nuova sede della protezione civile. Questo l'escamotage pensato da Emiliano, in tandem con gli assessori regionali piemontese di Gioia Enunziante. A 100 giorni dall'annuncio e con il primo sopralluogo il mese scorso della protezione civile presso l'aeroporto, da Palazzo di Città si denuncia l'estromissione da ogni fase operativa. Non esiste al momento un cronoprogramma certo e definito di tutti gli interventi. Un primo passo avanti è stato compiuto con l'approvazione della legge di stabilità che ha previsto fondi per l'individuazione del fabbisogno tecnico e logistico della protezione civile e lo studio di fattibilità che parte dalla somma di 14 milioni di euro previsti per allungamento della pista. Allarme negli ospedali pugliesi per un'improvvisa emergenza sangue che ieri ha costretto il presidente della regione Michele Emiliano a recarsi al centro trasfusionale del Policlinico di Bari con operatori e giornalisti al seguito per sensibilizzare l'opinione pubblica e aumentare il numero di donazioni. Con il dottor Michele Centro, direttore del servizio di immunomatologie e medicina trasfusionale degli ospedali riuniti, facciamo il punto sulla situazione del Policlinico Faggiano. Quest'anno si è verificata una situazione particolare perché oltre a una diminuzione fisiologica delle donazioni subito dopo le festività, quest'anno purtroppo c'è stata un'assenza della partecipazione dei donatori per motivi di salute in quanto si sa l'influenza costringe a letto forse la metà della popolazione o comunque un certo numero di persone che ovviamente soffrendo di questa situazione non possono dare il loro contributo in termini di donazione. Quindi questa situazione ha comportato una diminuzione delle donazioni e quindi anche una restrizione delle possibilità, infatti qualche centro ha dovuto in qualche modo programmare un ritardo in interventi non necessariamente urgenzi. L'attività nelle sale operatorie è stata regolare? L'attività è stata regolare, ovviamente la restrizione delle unità disponibili ha comportato una scelta di interventi, è chiaro che si è dato a questo punto una priorità ad interventi urgenti, a interventi non procrastinabili, ovviamente interventi che possono essere stati rimandati di qualche giorno sono stati evidentemente, hanno subito questo piccolo ritardo ma in termini di recupero i dati che noi adesso abbiamo a disposizione ci mettono tranquilli perché ieri c'è stato un'affluenza abbastanza importante, quindi si è ripresa in qualche modo anche la presenza dei nostri donatori, infatti ieri abbiamo a fine giornata totalizzato 34 donazioni, oggi penso che siamo sullo stesso numero se non di più, quindi la sensibilizzazione che si è creata da parte dei mass media ha in qualche modo prodotto i suoi effetti, infatti contiamo di ritornare anche dalla settimana prossima alla normalità per garantire ai nostri pazienti tutto di cui hanno bisogno. Nessun pericolo per gli ospedali riuniti? Beh attualmente il pericolo non c'è ma se si parla di pericolo in termini di mancanza di materia prima, quindi del sangue per garantire la copertura delle urgenze possiamo dire proprio di no. Giustizia e giornalismo, un rapporto a volte conflittuale a volte simbiotico, di questo si è parlato in un convegno organizzato dall'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati alla presenza tra gli altri, del sottosegretario della giustizia Gennaro Migliore del presidente nazionale della NM, l'associazione dei magistrati Eugenio Albamonte. Un rapporto, quello tra giustizia e mass media, dove giocano un ruolo fondamentale i diritti costituzionalmente garantiti come quello di cronaca, ma anche quelli del diritto alla difesa e alla privacy, come ha evidenziato ai microfoni del Tg Blue il presidente dell'Aiga di Foggia, l'avvocato Valerio Vinelli. Il giornalismo entra con un ruolo molto importante in una problematica, quella del rapporto tra mass media e giustizia che può sembrare di poco conto ma invece è molto rilevante perché implica dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali il diritto di cronaca appunto, ma allo stesso tempo il diritto di difesa e il diritto alla riservatezza e alla privacy. Quindi un confronto oggi su questo argomento anche alla luce della riforma Orlando che è un posto dei limiti a problemi di intercettazioni, fughe di notizie dalle procure, ma nel quale tutti dobbiamo fare la nostra parte, avvocati, giornalisti e magistrati. Presidente, alla luce della riforma Orlando, come cambia e come cambierà il rapporto tra giornalisti e magistrati? Io penso che cambi in modo virtuoso, c'è questa parte della riforma che prevede finalmente la pubblicabilità dei provvedimenti che dispongono sulla libertà dei cittadini, quindi le misure cautelari, secondo me è un importante passo in avanti. Innanzitutto si ribadisce un principio fondamentale a cui io tengo molto e la magistratura tiene molto, il provvedimento che limita la libertà delle persone deve essere conoscibile perché attraverso di questo si può anche controllare la correttezza dell'operato della magistratura e questa è una cosa importante dal punto di vista del principio democratico. Poi viene meno quel mercato un po' delle veline passate sotto banco che secondo me interferisce negativamente nel rapporto corretto dell'informazione. Se io ovviamente ho un committente come giornalista poi sarò portato a commentare quel provvedimento in modo da non dispiacere troppo il mio committente e questo rende la stampa meno libera di commentare, di criticare, quindi da questo punto di vista è un passo in avanti. Da tempo il Tribunale di Foggia sconta una carenza di magistrati e di personale. Nel corso di questi ultimi anni e in particolare nel corso dell'ultimo anno sono stati fatti gli interventi più significativi in termini di adeguamento sia delle piante organiche sia degli effettivi. Dal punto di vista della magistratura ormai siamo praticamente al completamento di tutti gli organici e ovviamente adesso tocca al Consiglio Superiore della Magistratura bandire i posti. Per quanto riguarda poi le figure che lavorano all'interno degli uffici giudiziari, gli assistenti giudiziari, i cancellieri, noi abbiamo fatto il primo concorso da oltre 20 anni che non si faceva nel Ministero della Giustizia, l'ultimo era stato nel 1996, noi ne abbiamo fatto uno cui hanno partecipato oltre 80.000 persone e che ha visto inizialmente bando per 800 posti, ma poi con interventi successivi anche all'interno delle varie leggi di bilancio, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, l'abbiamo esteso fino a 2.800 posti, il che vuol dire che oggi siamo in una condizione che già 1.400 entro la fine di questo mese prenderanno servizio e alcuni di questi certamente andranno anche al Tribunale di Foggia. Molti magistrati fino a poco tempo fa non volevano venire a Foggia. Questo mi meraviglia perché comunque Foggia è una sede prestigiosa, peraltro dal punto di vista sicuramente dell'amministrazione della giustizia penale un territorio molto delicato, quindi è chiaro che esista una problematicità ma io ho molta fiducia ovviamente nell'ordine della magistratura, nei magistrati e nel contributo che questi possono dare anche a sconfiggere le mafie garganiche che sono ahimè molto feroci e che però devono essere sconfitte nel più breve tempo possibile. L'antico adagio chi dice donna dice danno potrebbe calzare a pennello per il sindaco di Carpino Rocco di Brina con l'ordinanza numero 14 dell'11 gennaio scorso il Tarpure ha reso nulli tutti gli atti formulati dall'Aggiunta per la mancanza di parità di genere nell'esecutivo. Nella stanza dei bottoni infatti solamente Caterina Foresta in qualità di vice sindaco ed è per questo che la consigliera di opportunità della regione Puglia, Serenella Molendini aveva presentato il ricorso al TAR per la bocciatura della giunta di Brina. A sollevare la questione in consiglio comunale fu anche Rocco Ruo che esprime soddisfazione per l'esito del giudizio al TAR. Neanche dopo il ricorso presentato davanti al tribunale amministrativo di Brina e i suoi hanno avuto il coraggio di piegarsi alla legge dello Stato, sottolinea Ruo. Esprime invece sconcerto e disapprovazione il sindaco di Brina rispetto al modo fuorviante di presentare le questioni. Il Tarpuglia accoglie esclusivamente una richiesta a distanza cautelare riferita in particolare all'avviso pubblico messo in atto dal sindaco per reclutare una donna ad inserire nella giunta. La stessa ordinanza infatti, riferisce il sindaco di Carpino, non fa alcun riferimento ad atti prodotti dall'aggiunta proprio perché la normativa vigente prevede che in alcun modo può e deve essere interrotta l'azione amministrativa. E dal comune garganico parte l'offensiva. Intraprenderemo ogni iniziativa volta a verificare la necessità, la correttezza, la trasparenza degli atti intrapresi dalla Molendini, ad iniziare dallo stato del suo mandato, ai criteri di scelta dei legali per affrontare i giudizi innanzi al TAR, considerato che per tre comuni il legale incaricato è sempre lo stesso, e per finire alla gestione delle spese sostenute per gli onorari degli avvocati, accusa di Brina. È partito il tour della giustizia in vista della giornata nazionale delle legalità che si svolgerà a Foggio il 21 marzo prossimo. Ed è partito l'Istituto Superiore Pascal, dove gli studenti hanno incontrato il procuratore capo Ludovico Vaccaro e il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati Antonio Buccaro. I due giudici hanno dialogato con i ragazzi sui temi della giustizia e della legalità. È vero, continua il tour perché è già iniziato da qualche tempo, come dissi già al momento del mio insediamento, uno dei miei obiettivi è quello di diffondere una cultura della legalità. Per questo il modo migliore è partire proprio dai ragazzi, per cui sto girando alcune scuole per diffondere questa cultura. Come rispondono i giovani secondo me? Molto bene, in tutti gli incontri ho notato che sono interessati, entusiasti, preparati anche dagli insegnanti, quindi veramente un'ottima risposta, un tempo ben impiegato. Il recupero della legalità deve passare necessariamente attraverso il contatto con i giovani, con le nuove generazioni e bisogna fargli capire che legalità non è qualcosa che cade dall'alto, ma è un concetto che deve essere condiviso e soprattutto bisogna educarsi alla legalità. Non c'è il pericolo che però queste giornate siano soltanto delle giornate a sé stanti, che poi il giorno dopo tutto ricomincia come prima? Se dovessimo ragionare in questi termini non dovremmo fare queste iniziative. Io sono convinto invece che bisogna fare come il seminatore. Ogni giorno bisogna lasciare un piccolo seme e il terreno fertile prima o poi far assorgere la pianta. Cominciamo! Cazzo l'entusiasmo è allestile! Ma scherzo! Ma scherzo! Continua con successo la rassegna dell'associazione culturale Bella Vita Eventi I Love Cabaret. Tutto esaurito al Teatro Giordano e applausi scroscianti per Giobbe Covatta, che nella sua divina commediola affronta temi importanti come i diritti dei bambini e la povertà dell'Africa. In circa due ore di monologo, passando da un argomento all'altro, incalza il pubblico che non risparmia risate. Covatta, in scena con una maglia dell'Ambref, l'organizzazione a supporto dell'Africa, di cui è testimonial da 30 anni, nella sua personale rivisitazione del capolavoro dantesco, viene accompagnato da Virgilio tra i gironi infernali in cui, al posto dei peccatori, ci sono i bambini, vere vittime della società, private di ogni diritto. Un viaggio dolce amaro nell'Africa nera, il terzo mondo, come sottolinea lui più volte, in cui, se un bambino nasce senza AIDS, può considerarsi un miracolato. Mamma ride perché sono nato con i capelli lunghi, è raro! Mamma ride perché sono nato senza AIDS, è rarissimo! Il pubblico apprezza, riflette, si spera, e l'associazione Bella Vita dà appuntamento al pubblico all'Istuar con un altro bel colpo, il DJ set dell'ex degli Scancanensi e giudice di X Factor Skin. Giobbe Covatta al Teatro Giordano con la Divina Commediola, una commedia molto particolare in cui sono i bambini protagonisti. Sì, ma prima di parlare della commedia io vorrei parlare di Ilaria, che è fuori dall'inquadratura, ma è un peccato perché vieni qua. Eccola, ha visto che... Grazie. Lo standard non prevede che Ilaria sia dentro l'inquadratura, ma ci perdevamo una bella cosa, diciamo, mettiamola così. Che volevi sapere? Qualcosa sullo spettacolo. Ah, sullo spettacolo, già, perché noi stiamo qua per via dello spettacolo. La Divina Commediola è uno spettacolo, un reading, di una commedia del 1274, che è un'opera del 1274, io la leggo e poi la commento come fa Benigni, d'altra parte. Però questa commediola qua parla della Carta dei diritti dell'infanzia, per cui ecco là che le due cose coincidono. È molto particolare perché in questa commediola sono le vittime che sono tra i gironi danteschi. E vabbè, ma quello dei diritti dell'infanzia, si sa, non lo dico con leggerezza, ma dovrei dirlo con grande pesantezza. Invece sono sovente traditi, per cui in questo scritto, ecco là che automaticamente, essendo il loro diritto tradito, diventano delle vittime. Parlare appunto di temi importanti con la leggerezza, la satira. La satira è uno dei mille aspetti delle infinite sfumature del linguaggio e del modo di esprimersi. E con la lingua italiana tutto questo può succedere in maniera straordinaria, lascia perdere me che lo faccio in maniera greve, brutale. Ma è una lingua bellissima che permette un sacco di possibilità, dà tante aperture a un sacco di cose, tra cui la satira. Non esiste un argomento sufficientemente serio di cui non poter ridere. No, magari rimane anche più impresso. Questa è una teoria che io abbraccio con entusiasmo, sì, di solito sì. Quello che io spero che possa succedere è che qualcuno si incuriosisca all'argomento. Poi, tra tutti i ridancianni, troviamo uno più curioso degli altri e quell'uno, non dico che fa la differenza. Però, insomma, ho raggiunto lo scopo. Il Cene compie cinque anni, un bilancio di questi cinque anni è positivo? Beh, sì. Già il fatto stesso di essere presenti dopo i cinque anni è già un aspetto positivo di per sé. Il nostro obiettivo, però, è sempre quello di festeggiare altri cinque anni, speriamo anche di più, per carità. Non ci poniamo limiti. C'è il cento di questi giorni, tu hai detto altri cinque. Cinque, però, ci manteniamo basti. L'importante è non montarsi troppo la testa, sempre stare sul pezzo, nel senso di cercare sempre nuovi stimoli da dare, soprattutto ai nostri clienti, ma anche per noi serve per fare sempre qualcosina in più. Un locale particolare anche nell'arredamento, lo possiamo definire vintage? Guardaci, siamo vintage dentro proprio, quindi, insomma, è una ricerca continua di oggetti che ci riportano al passato un misto fra, c'è qualcosa degli anni sessanta, c'è qualche giornale degli anni cinquanta, qualche vecchio panorama, qualche quattro ruote degli anni cinquanta e poi principalmente anni ottanta. Forse proprio perché va a toccare le corde della nostra generazione, una generazione di nostalgici. Vero, tu sei nostalgica? E un po'. Sì, lo siamo un po' tutti, infatti, quando il cliente entra dentro, insomma, va a toccare proprio quei ricordi, trova oggetti, dici, questo ce l'avevo anch'io, insomma, oggetti che abbiamo avuto anche un po' tutti. La cucina della nonna, tutti ce l'avevamo quando andavamo a casa di nonna. Una location anche particolare per quanto riguarda Foggia, nel senso che tutti se ne andavano dalla piazzetta, dalla zona piazzetta, quando voi avete aperto? Sì, invece è stata riscoperta una zona che ci sta dando tante soddisfazioni. In effetti la movita sfoggiana si sta spostando un po' più nella periferia, però noi, grazie forse proprio alla location, alla piazza che abbiamo rivalutato, penso, perché era una piazza ormai morta, era una discarica diventata a cielo aperto, l'abbiamo ripulita, l'abbiamo risistemata ed è stata apprezzata molto da tutti. D'estate soprattutto c'è il tutto esaurito in questa piazza, avete anche portato a Foggia il genere della cover band, diciamo, si può dire così? Sì, la prendiamo questo che abbiamo portato perché prima non si faceva molto meno cover, pro e contro, veniamo un po' etichettati come il locale che fa solo le cover, però in realtà noi li definiamo e abbiamo avuto veramente ragazzi, gruppi artisti a tutti gli effetti. Poi adesso fanno tutti i cover, allora significa che noi poi faremo gli artisti veri, cioè Ligabue, la Ligabue. Dovrebbe arrivare il 2022. Questa sera invece ci sarà appunto il compleanno del Cenè. Dato il compleanno? Sì, sì, c'è il compleanno del Cenè e sarà una serata dedicata al nostro stile di festeggiare in maniera, diciamo, un po' familiare, quindi un po' come quasi le feste di compleanno che si facevano in casa una volta, sempre per rimanere nel tema vintage. Ci sarà Lorenzo Zecchino, ci sarà come DJ Danilo Rossetti e niente, vi aspettiamo. Ai prossimi cinque anni. Conociamoli. Grazie mille. Ai prossimi cinque anni. In onda la seconda puntata del talk show itinerante di Tele Blu, La Musica e della Tavola, mirato alla ricerca, scoperta e valorizzazione delle eccellenze e dei comuni e degli angoli più suggestivi della Capitanata. Nell'anno nazionale del cibo italiano proclamato dai ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dei beni culturali e turismo Dario Franceschini, la trasmissione ideata e condotta da Tonio Toma rappresenta una preziosa opportunità per conoscere non solo i prodotti tipici, ma anche la storia, il costume, come l'enogastronomia, la cultura, le tradizioni, i paesaggi di un territorio che rappresenta un patrimonio da tutelare e rilanciare, partendo prima di tutto dalla sua conoscenza. E Tele Blu, con la nuova trasmissione, intende fornire il proprio contributo al servizio degli spettatori della provincia di Foggia, ma soprattutto per quei comuni spesso ignorati o non adeguatamente coperti dalle attenzioni dei media. Buona visione allora con la musica della tavola interamente girata per l'occasione a Carlantino. Potrete vedere la nostra trasmissione anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Tele Blu. Sabato 13 l'Auditorium Santa Chiara ospita l'eclettico musicista Giovanni Sollima per inaugurare la quarta edizione di Musica Felix della Fondazione Apulia Felix. Sollima è un violoncellista che si unirà alla formazione della Puglia Cello Solist per presentare un concerto che spazia dal pop a rock dalla classica all'etnica. Sarà interessante ascoltare questo mix musicale eseguito da una formazione tutta di violoncelli. Sabato 13 Fabrizio Bosso con i Blue Mocha per la riapertura del Cinemateatro Cicolella una leggenda al Cicolella che ha in serbo una serie di iniziative e spettacoli che sicuramente porterà la struttura agli splendori degli anni passati. Una leggenda Fabrizio Bosso che tra rhythm and blues funk e jazz regalerà agli spettatori una serata memorabile. Alla contemporanea Galleria d'Arte di Foggia sabato 13 si inaugura una rassegna dedicata a Renato Guttuso che attraverso 30 opere racconta la storia della società italiana vista e vissuta da uno dei maggiori artisti dell'arte contemporanea internazionale. La mostra si potrà visitare fino al 4 febbraio. Sabato 13 e domenica 14 il Teatro Regio di Capitanata ripropone a sconsolata del trio Norillo Mancini Colecchia della compagnia Inarchè. Il racconto è calato in una foggia degli anni 50-60 quando addolorata che vive in un quartiere popolare riceve la visita del liquidatore di un'assicurazione che deve valutare la somma da consegnare per la scomparsa del marito deceduto. Ovviamente viene coinvolto l'intero quartiere per una simpatica serie di situazioni tutte intorno alla sconsolata addolorata. Sabato e domenica riprende l'attività al piccolo teatro impertinente con il circo magico inscenato da una compagnia polacca e dedicato alle famiglie e il racconto di un incontro tra due mondi diversi un vecchio clown che ha lasciato il circo e un giovane che ambisce a diventare clown e la valigia del vecchio clown che sarà al centro di questo spettacolo dedicato alle famiglie. Fino al 2 febbraio sarà ancora possibile visitare il museo civico Fiorelli di Lucera con Babbo Natale. È stato il successo dell'evento partito nel periodo natalizio a far scattare la decisione di continuare attraverso i momenti ludici la conoscenza e l'interesse verso la storia del territorio. Al Teatro Giordano domenica 14 gennaio Mangia Disc con Alessandro Crocco Carlo Durante e Silvia Riccerdelli. Mangia Disc è uno spettacolo contro la paura e la solitudine che due bambini possono provare se temono di essere abbandonati. Uno spettacolo sul tempo che passa sul rapporto tra fratelli con una nonna che invecchiando torna bambina. Ricordi e atmosfere magiche per uno spettacolo dedicato alle famiglie. Grazie a tutti.